Ecco, il libro di Pino Aprile sta invadendo anche Marsala. Io guarda, se poi ci puoi riprendere, ci riprendi, noi siamo indipendentisti di diversa... Lo so, lo so. Ecco, Pino Aprile di sicuro sta raccontando per vedere queste immagini. Siamo a Marsala, noi diciamo al popolo italiano tutto di comprare questo libro perché è veramente bello. Noi diciamo che questa è la verità che c'è scritta in questo libro, deve venire diffusa, deve venire studiata nelle scuole. Perché non è assolutamente giusto che noi siamo qua oggi e vedo tanta gente che osanna ai nostri massacratori dopo 150 anni ignorando quello che ci è stato fatto. E nel momento in cui invece lo si sa, si fa per lecchinaggio, per opportunismo e perché facciamo pena, perché io mi vergogno.